Però io non lavoro per i soldi. Allora per che cosa? Non lo so. Francamente non so granché. La morte di mia madre, per esempio, era già morta al mio arrivo o invece è morta più tardi. Voglio dire morta e sotterrata. Non lo so. Forse non è stata ancora sotterrata. Comunque sia, sono io ad aver la sua stanza. Dormo nel suo letto. La faccio nel suo vaso. Ho preso il suo posto.